guardate questo tombino saltato fuori cioè praticamente se ne è saltato fuori non è possibile è assurdo c'è la pressione dell'acqua e il tombino cammina cioè ci va una macchina ci rimane e spacca tutto c'è il tombino cammina ed è pesantissimo e di chi sa quindi se ne sta andando guarda guarda il tombino cammina solo questo è via Gaetano Argento scendendo dall'alco di Cerce guardate la nuova dell'acqua che esce c'è assurdo assurdo Grazie a tutti Grazie.